e allora buongiorno benvenuti alla resegna stampa economico finanziaria di oggi martedì quattordici giugno e ci affidiamo alla prima pagina di milano finanza di oggi che direi riassume molto bene la situazione un'altra giornata pesante quella di ieri sui mercati borse giù debito boom ancora effetti nefasti dall'aumento dei tassi non si fermano le vendite dopo lo stop della bc e il quantitative easing milano la peggiore meno 2,8 per cento in europa è la diciamo la peggiore in europa e chiaramente milano va male anche lo spread che sale fino a 2 40 e il btp vola al 4 per cento le banche contano i danni sui bond sovrani pensate già persi per le banche italiane 9 miliardi di capitalizzazione il nasdaq si sfracella meno 4,7 per cento ed è un po anche il tenore di quello che ci dice il sole 24 ore nella prima pagina di oggi in caduta le borse di tutto il mondo lo spread arriva fino a quota 2,48 quindi all'ambito questa quota psicologica dei 250 punti di spread ma il sole 24 ore sempre in prima pagina dedica uno spazio alle criptovalute celsius va in crisi di liquidità parte la paura del cripto crash lo vedremo tra pochissimo il bitcoin sta vivendo momenti molto molto difficili nell'ultima settimana ha perso quasi il 30 per cento del suo valore perdendo e di molto e la soglia psicologica dei 30 mila dollari comunque il sole in prima pagina si dice dopo il crack di luna il mondo cripto deve affrontare un nuovo cigno grigio la crisi di celsius il più grande conto di deposito di criptovalute che deve fronteggiare una crisi di liquidità che preoccupa gli 1,7 milioni di clienti in tutto il mondo italia inclusa la notizia ha chiaramente creato panico sul comparto con vendite diffuse a doppia cifra sul bitcoin e la capitalizzazione del settore ora sotto i mille miliardi di dollari pensate che in novembre all'apice dell'ultima bull run quindi dell'ultimo forte mercato d'oro d'oro sulle cripto il comparto valeva 3 mila miliardi tra l'altro vi segnalo che anche binance l'altro famosissimo insomma intermediatore delle cripto ha avuto una crisi di liquidità ha minimizzato dicendo che in realtà erano solo problemi tecnici però non si potevano insomma ritirare bitcoin sembra che il problema sia risolto ma ovviamente c'è molta 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 paura in tutto il comparto in sempre in prima pagina in sole 24 ore spinge sul rendimento del decennale italiano che sfonda il 4 per cento e siamo tornati sui livelli di fine 2013 e ovviamente l'effetto spread è inevitabile ma ecco qua un po' quello che è successo nelle ultime 24 ore sul mercato questa fotografia è stata scattata alle 7 di questa mattina ma più o meno i numeri sono questi vedete un nasdaq molto pesante questo è l'indice il valore dell'indice siamo 11.288 punti con un meno 4,6 giornaliero 11 meno 11 per cento nell'ultima settimana meno 30 per cento dall'inizio dell'anno anche l'S&P ufficialmente entrato nel mercato orso vi ricordo che il mercato orso inizia quando si perde il 20 per cento dai massimi e l'S&P che è sui 3.749 punti che ha perso dall'inizio dell'anno il 21 per cento non se la passa bene nemmeno l'Europa insomma i numeri li vedete 21.918 per il nostro indice che ha perso il 2.79 ieri 10 per cento nell'ultima settimana 19 per cento dall'inizio dell'anno un po meglio ieri euro dollaro con un che si attesta a 1,0426 ma il bitcoin bitcoin che è intorno ai 22 mila dollari almeno questo era il dato delle 7 di mattina con è arrivato ieri a perdere fino al 17 per cento in settimana ha perso quasi il 30 per cento e da inizio anno ha perso più della metà del suo valore insomma un quadro veramente molto teso e ce lo dice anche la curva dei tassi USA che è sotto sopra il mercato teme la recessione il gap tra rendimento tra due e dieci anni per qualche minuto va in negativo ne parleremo di questo con gerardo morano nel approfondimento delle dell'esperto ma cosa vuol dire vuol dire che ieri per qualche minuto venivano pagati di più gli interessi su un debito a due anni che non a dieci anni quando succede questo fatto il mercato il l'economia statunitense va in recessione anche se in realtà va specificato bene una cosa insomma tutte le volte che c'è una recessione almeno 12 18 mesi prima si verifica questa inversione ma non è vero il contrario cioè non tutte le volte che si verifica questa inversione poi arriva una recessione questa è i matematici potrebbero dire una condizione necessaria ma non sufficiente cioè nel senso che non è poi detto che arriva la recessione ma sarà il tema del approfondimento di oggi e vorrei sottolinearmi invece per quanto riguarda le opinioni un interessante articolo di alessandro graziani sul sole 24 ore che ha intervistato monica defende e matteo germano di amundi per chiedere un po' qual era la loro visione del mercato e soprattutto delle mosse della fed la fed alzerà due volte i tassi entro luglio prima dello stop pre elettorale dice il titolo di questo articolo ma insomma i due ospiti due intervistati dichiarano che ci aspettiamo che domani vi ricordo domani ci sarà la decisione sui tassi da parte della fed ecco ci aspettiamo che la fed alzi i tassi dello 0,5 per cento e che nella riunione di luglio faccia altrettanto incrementandoli di un altro 0,5 per cento la banca centrale americana sarà più veloce della bce per tre motivi primo la ripresa economica negli state è ancora sostenuta come dimostrano i dati sull'occupazione l'inflazione in america potrebbe aver raggiunto il picco già maggio iniziare a decrescere da luglio e a novembre negli usa ci saranno le elezioni di midterme storicamente la fed non muove i tassi nei mesi pre elettorali ecco perché ci si aspetta questo questo stop questa pausa prima delle elezioni di medio termine che saranno molto importanti perché il l'amministrazione biden potrebbe perdere la maggioranza al senato e questo metterebbe molto molto in difficoltà perché dovrebbe scendere molto più a a patti a compromessi con il partito repubblicano e le politiche di biden potrebbero subire uno stop quindi grande attenzione alle prossime elezioni ma graziani è andato avanti in queste interviste ha chiesto un po come vede il mercato azionario a mundi ecco e il nostro atteggiamento dicono sempre dice matteo germano appunto di a mundi il nostro atteggiamento è di grande cautela e di attenzione verso l'investimento azionario tenendo conto che la tesi di crescita degli utili in europa oscillano tra il meno 5 e il più 5 per cento quindi una media pari a zero mentre negli usa il consenso è in aumento del 5 6 per cento come nuoversi dunque nella selezione delle azioni beh il criterio generale di costruire portafogli azionari di qualità puntando su settori che più proteggono dall'inflazione come energia e utilities ma anche su comparti legati alle materie prime necessarie alla trasformazione energetica commenta sempre germano di a mundi e inoltre sempre in una prospettiva di inflazione che riteniamo non temporanea vediamo grandi potenzialità in due settori real estate e infrastrutture vedremo se avrà ragione questa questa previsione comunque era interessante un'intervista molto interessante fatta appunto da alessandro graziani e si chiude sul comparto obbligazionario graziani chiede ma che approccio avete e i due diamundi rispondono il rialzo quasi brutale dei tassi ci ha portato a ridurre il corto di duration sui governativi americani e sul bond ci siamo riposizionati su emerging market bond sfruttando l'esposizione ai paesi esportatori di materie prime anche se ancora in sovrappeso abbiamo ridotto l'esposizione ai periferici questa è l'idea di a mundi sull'obbligazionario e siccome uno degli obiettivi insomma della nostra tv di masquattra è quello di cercare di fare divulgazione vedete questa frase è abbastanza difficile abbiamo ridotto il corto di duration sui governativi americani che il sole 24 ore ce la scrive così come se fosse una cosa normale ma non è semplicissimo da capire e quindi noi tutte le mattine abbiamo a disposizione un esperto oggi c'è gerardo morano e tra pochissimo gli chiederemo cosa vuol dire in effetti ridurre il corso di duration adesso andiamo avanti invece con la nostra rassegna stampa e si parla chiaramente di spread si parla di spread e dell'attesa che c'è da parte della bce per fare uno scudo ecco spread attesa per lo scudo bce i mercati stanno testando la volontà di intervenire da parte della banca centrale francoforte può varare i riacquisti flessibili di p e p p o e o un nuovo strumento sui tassi il focus e ora chiaramente sull'entità di rialzo di settembre si parla di un dubbio tra 0 25 e 0 50 l'ultima volta la lagarda fatto capire che ci potrebbe essere spazio anche per lo 0 50 e vedete i mercati come hanno reagito male ma hanno reagito soprattutto male perché si era parlato di questo scudo anti spread cosa vuol dire vuol dire una protezione per i paesi periferici paesi un po più deboli tra i quali spicca l'italia che si teme che se non ci sarà più la protezione della bce nell'acquisto del debito pubblico italiano l'italia potrebbe avere grosse difficoltà e chiaramente un paese importante come l'italia che va in crisi all'interno dell'europa si tirerebbe dietro tutto il vecchio continente per questo che si parla tanto di questo scudo bce ma ci ammonisce il sole 24 ore con un interessante articolo di isabella bufacchi che ci dice attenzione lo scudo anti spread per la stabilità dei prezzi non è un pasto gratis tutti gli interventi della mici mirano a portare chiaramente l'inflazione al 2 per cento a medio termine ma chiude così l'articolo eh di isabella bufacchi lo scudo anti spread non deve essere scambiato per un free lunch quindi per un pasto gratis per un'occasione di dire vabbè abbiamo la bce che si ne frega possiamo fare quello che vogliamo assolutamente no ammonisce il sole 24 ore in quanto l'elargizione di pasti gratis non rientra nelle operazioni di politica monetaria della bce a chiarire la politica anti spread della bce sarà oggi isabel schnobel membro del board della bce e gli spazi si dice da bufacchi per chiarire in questo ambito sono eh ampi come praterie insomma non si è capito praticamente nulla di come poi avverrà questo spread se questo scudo anti spread come avverrà eh e quando avverrà speriamo che oggi appunto questo membro della bce ce lo faccia capire un pochettino meglio e chiudiamo comunque la rassegna stampa di oggi con un dato invece di milano finanza per su un articolo scritto da elena dal maso e ci fa un po il rendiconto di quanto sta costando la guerra la guerra costa 6.300 miliardi titola milano finanza pesa l'impennata delle materie prime rispetto al 2019 pari al 6,3 per cento del pin mondiale guardate che aumento un aumento stratosferico il 6,3 per cento del pin mondiale tra economia e solidità del debito secondo siti il conto più salato finisce purtroppo per pagarlo l'europa purtroppo l'ho aggiunto io però essendo noi europei è chiaro che non possiamo essere contenti di questo uno shock simile si era visto solo negli anni 70 con la crisi petrolifera e la recessione innescata da Volker chi è Volker? Volker era il eh governatore della fede della banca centrale statunitense negli anni 81 e 82 che appunto non si mosse molto bene e innescò questa recessione eh la recessione ci fu adesso noi tutti ci stiamo chiedendo se ci sarà perché la la Fed ci sta muovendo un po come Volker cioè quindi alzando i tassi io però vorrei portare un po lo sguardo più avanti sì nell'81 82 ci fu ci fu la recessione ma poi eh l'economia e gli anni 80 i ruggenti anni 80 ce li ricordiamo tutti ripartì fortissima quindi se anche ci dovesse essere recessione non finisce il mondo anche se vedete e fa male chiaramente fa male vedere il proprio portafoglio in rosso calare ma non finisce il mondo cerchiamo sempre di tenere come ci eh consigliano i nostri esperti Giorgio Morano e Giorgio Carlino scusate Gerardo Murano eh di avere uno sguardo di lungo periodo e nel lungo periodo le azioni premiano sempre comunque per chiudere siti ha mezzo in evidenza che l'Europa e alcune economie emergenti insieme al debito espresso in euro sono fra le aree più vulnerabili rispetto ad una crescita azzoppata soprattutto se lo shock si protrarrà nel tempo uno scenario di stress a lungo termine alimenterebbe il rischio di recessione in Europa gli analisti hanno stimato che l'inflazione trainata dalle materie prime sta già tagliando del 2% hanno il reddito disponibile del reale delle famiglie europee e il grado di contrazione degli effetti sui salari e dalla risposta politica dipenderà appunto dalla risposta politica a concluso siti quindi il 2% ci sta già costando anno non è poco ehm ed è anche per questo che bisogna cercare di difendersi di mantenere la calma e di investire nel modo giusto e noi siamo qui tutte le mattine per cercare di darvi una mano e per cercare di eh appunto darvi una mano a interpretare i giornali per la rassegna stampa di oggi è è tutto e adesso possiamo andare al parere dell'esperto non prima però di aver chiuso ufficialmente la prima delle le nostre tre rubriche di oggi mettendo la siglettina ciao